Nella prima puntata della nostra trasmissione abbiamo detto che la prevenzione è lo strumento che può aiutarci a difenderci dai terremoti e dobbiamo imparare a difenderci e dobbiamo quindi imparare a fare prevenzione. Il professor Coltorti ci ha indicato i quattro pilastri diciamo della prevenzione partendo in un ordine logico dalla conoscenza. Se noi conosciamo i terremoti sappiamo che cosa sono, che cosa sta accadendo, perché la terra trema, arriviamo probabilmente a convincerci della necessità della prevenzione e di come farla e allora per conoscere i terremoti, i terremoti in particolare che hanno colpito Ferrara e questa area diciamo delle miglie il 20, 29 maggio scorsi, 3 giugno, 4 abbiamo con noi oggi il professor Ricardo Caputo Geologo dell'Università di Ferrara. Ecco, la mia domanda è questa, che cosa è un terremoto, perché la terra trema e che cosa è accaduto a Ferrara in particolare in quei giorni? Allora un terremoto è il rilascio di energia elastica sotto forma di onde elastiche, energia che si è accumulata nel tempo per le forze tettoniche in generale. La terra è un pianeta vivo che si continua a muovere con dei ritmi estremamente lenti, però si continua a muovere, movimenti relativi producono... Forze tettoniche significa forze che agiscono all'interno della crosta terrestre. All'interno della crosta terrestre, esatto. Quindi queste forze si accumulano, gli sforzi in realtà si accumulano in maniera elastica fino a un certo punto, è come se io provo a piegare un oggetto anche di plastica, ad esempio, riesco a piegarlo fino a un certo punto, se supera un limite che è il limite critico per quel materiale, ovviamente ogni materiale ha un suo limite critico come pure le rocce della crosta terrestre, se supera il limite critico la penna, l'oggetto si rompe, la crosta si rompe. Nel momento in cui si rompe ho la produzione di una faglia, si produce una faglia, si produce del rigetto, cioè c'è un movimento relativo fra i due blocchi separati dalla frattura che si è appena formata e contestualmente c'è un rilascio di energia elastica. Tra l'altro quella associata al terremoto è una piccola percentuale dell'energia in realtà immagazzinata nel volume crostale. Questa energia quindi parte dalla sorgente, sorgente focale viene detta quindi all'inizio del piano di rottura, perché c'è una superficie di rottura, dove avviene questa rottura. Ogni punto della rottura rilascia energia elastica sotto forma di onde elastiche. Queste onde elastiche ovviamente partono da una certa profondità nel sottosuolo, nella crosta, per il nostro territorio tipicamente 7, 8, 15 chilometri, sono i terremoti che ci interessano. L'epicento questo è? Sì, questo è l'ipocento. L'ipocento. L'energia viene rilasciata a quella profondità e le onde elastiche vengono trasmesse in superficie. E noi percepiamo come vibrazioni scosse. E noi percepiamo le vibrazioni del suolo e quindi il suolo vibra e ovviamente tutto ciò che è sul suolo, edifici compresi. Ecco, per capire, per sapere quanto diciamo siamo esposti alla possibilità di un terremoto esistono mappe di rischio sismico che ci dicono sia quanto un territorio, come dire, è esposto a una possibilità che avvenga un terremoto, sia ci dicono quale intensità quel terremoto potrebbe avere. Sì, esistono mappe di pericolosità sismica, il fenomeno naturale determina una certa pericolosità che non si può annullare, perché dipende dalla natura ovviamente, si può annullare il rischio riducendo la vulnerabilità e l'esposizione, ma la pericolosità non si può annullare. La pericolosità ci dice che comunque in quel territorio possono accadere. è soltanto di quantificarla e al meglio ovviamente, anche perché è inutile valutare una pericolosità altissima quando non c'è o troppo basso ovviamente sottovalutarla. Questo genererebbe che cosa? Per creare misure preventive o delle costruzioni superflue in maniera troppo resistente, che non servono a nulla, oppure troppo deboli che potrebbero crollare con un vento sismico. Ma esistono mappe di pericolosità? Quando diciamo che Ferrara è in una zona 3, ci indica la pericolosità del territorio, cioè la possibilità che qui avvenga un terremoto, magari la periodicità del terremoto e l'intensità del terremoto. Non dice quello le carte che esistono, che sono anche sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, è normativa quella. Le carte che ci danno il grado di pericolosità in realtà contengono questa informazione, cioè non ci dicono specificatamente il terremoto quando arriverà, di che magnitudo, eccetera. Però contengono tutta quella informazione, come una scatola nera, diciamo così, per un non addetto ai lavori e l'informazione che è riprodotta in quella carta è invece soltanto la probabilità che si verifichi una certa accelerazione al suolo, quindi un certo scuotimento. Questa è l'informazione che però nasce da queste informazioni geologiche, cioè la presenza delle faglie, la loro geometria, la loro cinematica, la loro velocità di movimento, la magnitudo massima che possono generare, la profondità, eccetera, eccetera, il periodo di ritorno dei terremoti, tutte queste informazioni geologiche, sismologiche, diciamo in generale, permettono di quantificare la probabilità che si verifichi un certo scuotimento a Ferrara. Per la prevenzione, tutte queste informazioni che funzioni hanno o dovrebbero avere? Per la prevenzione tutte queste informazioni sono già contenute nelle mappe di pericolosità, quelle ufficiali per intenderci. Il discorso di conoscere, per la popolazione, per un addetto ai lavori, un abitante semplicemente della zona, conoscere il periodo di ritorno medio stimato di una faglia, è un discorso così, di cultura generale può essere, non è che lo aiuta di più o di meno a migliorare il grado di prevenzione. Ferrara sotto di sé è una faglia che si dice non si è mossa dal 1570, che potrebbe muoversi. Uno, come dire, degli allarmi scatenati da una comunicazione della Commissione Grandi Rischi è stato legato proprio, diciamo, alla ipotesi che se si fossero verificate scosse, uno sciame di scosse così più vicine a questa area della faglia ferrarese, la Commissione Grandi Rischi non escludeva la possibilità di avere in quel arco di tempo, diciamo, di giugno dell'estate, una scossa importante anche su Ferrara. Allora, che cosa possiamo dire per quanto riguarda la possibilità che questa faglia sotto Ferrara torni a muoversi? La faglia c'è e ce ne sono delle altre, contigue, vicine, parallele, eccetera, tutte capaci fondamentalmente di generare terremoti di magnitudo simile. 5-5, 6, 6-1, eccetera, quindi questa è la magnitudo tipica per questo tipo di faglie. La faglia di Ferrara probabilmente si è mossa appunto in concomitanza del termoto 1570 e conoscendo le caratteristiche di queste strutture sismogeniche possiamo dire che il periodo di ritorno generalmente è più lungo di questi 430-440 anni che sono trascorsi, però è un discorso statistico ovviamente, il periodo di ritorno è un valore indicativo e medio e i 400 anni sono, diciamo, al di là, molto al di là, diciamo, anche di quello che è il grado di incertezza del periodo di ritorno. Posso chiedere al geologo, fare questa domanda al geologo, tutto ci induirebbe, come dire, a mettere in sicurezza il nostro territorio, cioè a fare davvero delle azioni di prevenzione. La domanda che le faccio è, visto che lei ha parlato ancora in passato della necessità di promuovere la prevenzione, se accadesse un terremoto della magnitudo, diciamo, simile a quella che è stata documentata, ecco, nel 1570, Ferrara potrebbe resistere, che tipo, come dire, di pericolo, ecco, correrebbe, maggiore, minore, allora fu devastante quel terremoto. Allora fu devastante, anche oggi, nell'ipotesi in cui si verificasse, produrrebbe dei danni seri, evidentemente, anche perché un epicentro, esattamente in corrispondenza di Ferrara, ricordiamoci che il terremoto del 20-29, l'epicentro era a circa 20-25 km da Ferrara e ha prodotto quello che ha prodotto in termini di danni. Immaginatevi, quindi, l'energia che arriva direttamente sulla verticale, eventualmente, darebbe dei danni, uno scottimento molto maggiore, quindi dei danni molto maggiore. Quindi bisogna lavorare in termini di prevenzione. Ecco, mettere in sicurezza è necessario, il geologo ce lo dice, ed è necessario, ed è un dovere che hanno istituzioni, singoli cittadini, e che passa attraverso voi che ci date queste informazioni. Sì, esattamente. Ecco, vorrei chiudere questo suo intervento, professore, con una domanda che oggi è di grande attualità, proprio nel nostro territorio, e cioè si è parlato, per quanto riguarda le cause, diciamo, dei fenomeni sismici, di o di concause, diciamo, della possibilità che trevellazioni profonde, fatte come è accaduto in alcune aree dell'Emilia, e come si vuole fare Ponte Gardella per scavare i pozzi, diciamo, della geotermia, possano, stuzzicando la terra, come dire, indurre delle scosse. Lei che cosa ci dice? No, no, assolutamente. L'ordine di grandezza delle forze in gioco, visto che abbiamo parlato di forze prima, e delle modificazioni del campo di sforzi all'intorno della faglia, usate dall'uomo, sono minimali. L'ordine di grandezza è estremamente più basso rispetto all'ordine di grandezza delle forze naturali in gioco. Quindi? Quindi... Non ci sono, diciamo, delle trevellazioni che possono indurre... Non ci possono essere trevellazioni. C'è una sperimentazione in California che volevano apposta attivare la faglia, e è un progetto che è abortito, perché hanno riconosciuto l'impossibilità che l'uomo possa attivare una faglia, in maniera addirittura voluta. Quindi non dobbiamo preoccuparci di questo, dobbiamo preoccuparci invece di mettere in sicurezza la nostra città e i nostri edifici. Certo. Grazie, professor. I terremoti, abbiamo sentito, sono fenomeni naturali, perché non si trasformino in disastri, occorre prendere delle precauzioni, ed è per questo che noi parliamo di prevenzione. Sono azioni, quelle di prevenzione, che consentono a chi abita un territorio di sopportare i terremoti possibili in questo territorio. Ma chi ci dice quali siano i terremoti possibili in un determinato territorio? Ce lo dice la sismologia, ce lo dice in particolare una disciplina storica, che è appunto la sismologia storica, di cui abbiamo con noi una rappresentante, come dire, che è diventata notissima proprio in questi mesi, perché finalmente i suoi studi, come dire, hanno fatto testo, perché si sono occupati in particolare, Emanuela Guidoboni, che è qui con noi, si è occupata, in passato, del terremoto che ha colpito Ferrara nel 1570. Un terremoto che ha avuto una lunga durata, nello sciame sismico che l'ha colpita. E' un terremoto di cui ci parla Emanuela Guidoboni anche sul sito, che è diventato oggetto natissimo e molto noto, del centro euro-mediterraneo di documentazione degli eventi estremi e dei disastri, che Emanuela Guidoboni dirige, il centro è a Spoleto. Noi vorremmo innanzitutto chiedere, fare due domande. Ci dica che cos'è questo centro, ci dica che cosa, che dati ci dà la storia dei terremoti. Questo centro è nato proprio per aprire il discorso della memoria. La memoria dei disastri è una memoria importantissima per conoscere come sono fatti, perché accadono, perché diventano dei disastri, dei fenomeni naturali. Perché diventano dei disastri? Diventano dei disastri nel rapporto che incontrano, soprattutto il terremoto, che incontra in superficie, che è un mondo abitato non adatto a quell'evento. Quindi è un mondo che si è creato indipendentemente, quindi case costruite male, edifici vulnerabili, costruiti in posti non adatti, ma è così anche per le alluvioni, per le frane. Quindi c'è un mondo di fenomeni naturali che diventa disastroso per l'uomo. Ma è l'uomo stesso che crea questi disastri con queste risposte mancate a queste sfide. Sono delle sfide ambientali mancate. Ecco, il centro che lei dirige, che lei ha fondato in sostanza, di che cosa si occupa? Si occupa proprio di divulgare i dati scientifici sui disastri, quindi ci sono i paletti della scienza, quindi nessun catastrofismo, nessun neomisticismo su questi eventi, che sono interessantissimi da conoscere, e delineano un territorio. Quindi il centro vuole divulgare i dati, soprattutto nel lungo periodo, perché conoscendo i disastri nel lungo periodo si capiscono le vulnerabilità dell'ambiente, dove si abita. Vediamo se ho capito bene. I disastri del passato, gli identi naturali del passato, si ripeteranno? Sì, soprattutto per i terremoti c'è questo aspetto interessantissimo, perché le dinamiche che creano i terremoti cambiano nei milioni di anni. Quindi nella storia umana è quasi un presente. Quindi quello che è successo nei secoli passati sarà molto simile a quello che succederà nei prossimi secoli. Allora, quello che è successo nel 1570 a Ferrara ci dice, ci doveva dire, che prima o poi un terremoto analogo a Ferrara può succedere. E non è successo perché non possiamo... Sì, non è successo perché è un altro sistema di faglie che si è mosso, di questa dorsale ferrarese che è sotto la pianura padana, quindi noi pensiamo di essere una terraferma, invece si muove sotto perché c'è la dorsale. Il terremoto di Ferrara non è quello che è successo adesso, è un terremoto di impatto piuttosto elevato, che ha scosso la città, ha cambiato il suo volto, ha messo in crisi addirittura il modo di governare la città dei principi di allora, che era Alfonso II, ha creato una crisi diplomatica e politica, ha creato un rosso votamento della città. Ecco, tutto questo è un fenomeno che ci deve... è un evento storico importante che deve essere assunto come un'eredità. non è l'unico terremoto importante di Ferrara, perché ce n'è stato uno anche nel 1796, meno noto, ugualmente forte, e Ferrara era già in piena decadenza, quindi non ha avuto l'impatto, diciamo, culturale che ha avuto il terremoto precedente. Perché allora il grande Ducato Estense... È la capitale di questo Ducato. Fu anche oggetto di studio da parte degli osservatori, degli ambasciatori che vennero a vedere dove era Ferrara città. Sì, dover a Ferrara, certo con un pessimismo non indifferente, però soprattutto si aprì una grande stagione di riflessioni sulle cause dei terremoti, sulle cause non solo naturali, quindi quelli che non si vedevano, ma anche della risposta dell'edificato. Lei ci ha portato questo che lei chiama pettine, questa immagine che ci mostra quanti siano stati i terremoti che hanno colpito Ferrara nel giro di otto secoli. Sì, sono quasi un centinaio di terremoti, fra terremoti che hanno fatto danno e terremoti più bassi. Diciamo che non sono tutti terremoti locali, ovviamente sono anche risentimenti di epicenti lontani, però è importante capire che la città può scuotersi, quindi non spaventarsi se succede, capire che è un fenomeno della natura, è importante vedere dove si abita, come si abita, come sono le costruzioni, qual è la loro vulnerabilità. assumere questa immagine del profilo sismico della propria città. In Italia ce ne sono tantissime di città che hanno questo profilo sismico, un'infinità di paesi. Negli ultimi 150 anni ci sono state 10 città, capoluoghi di provincia danneggiati fortemente in Italia e oltre 1600 paesi. Quindi con danni enormi, con danni enormi di natura economica, con vittime che fortunatamente sono state, diciamo, contenute, anche se naturalmente chi ne è stato colpito prova un'angoscia, diciamo, che non è certamente comparabile, insomma, anche se... Però, un numero contenuto di vittime, danni moltissimi anche in questi terremoti che hanno colpito l'Emilia e quest'area della pianura padana. Vediamo la caratteristica di queste scosse sismiche è quella di avere colpito un'area che si estende moltissimo in senso longitudinale, no? Sì, per questa dorsale che è sotto, che noi non vediamo, ma sta sotto gli strati alluvionali del Po e che si muove, si sta alzando. Quindi c'è una dinamica. Ecco, la prevenzione ha dei costi, però l'emergenza e la ricostruzione post-sisma ha dei costi altrettanto importanti. Ecco, dovendo fare un rapporto fra costi della prevenzione e costi dell'emergenza e della ricostruzione, lei ci diceva, negli altri paesi, e la logica, l'intelligenza, indurrebbe a optare per investimento in prevenzione. Certo. A noi invece manca un modello, una risposta adeguata alla sismicità dei territori della penisola. È questo che dicevo. Sì, questo è un problema di vecchia data, da quando l'Italia si è unificata. Quindi diciamo che adesso tutto nel sistema di deleghe dovrebbero essere le regioni e i comuni ad assumere questo ruolo propulsore. Tra l'altro è un ruolo che può mettere in moto un meccanismo economico estremamente positivo. Quindi non dobbiamo vederlo solo come un carico. Potrebbe avere degli sbocchi estremamente interessanti, soprattutto in futuro salvare vite umane e pesare di meno sui nostri discendenti. Quindi noi stiamo dando praticamente in eredità ai nostri figli e nipoti degli edifici ipotecati. Ecco, dobbiamo vederlo così. Il terremoto è una grande ipoteca sul costruito e noi dovremmo alleggerire questo... Ci renderebbe più tranquilli, renderebbe anche... Sì, è una sfida che dobbiamo vincere, ce la dobbiamo fare. Ecco, lei diceva che si parte dalla conoscenza, no? Per arrivare alla sicurezza antisismica dell'edificato, delle proprie case, delle città, del territorio che naturalmente abbiamo detto seppure in un'area a rischio sismico diciamo non altissimo, però è una terra che può tremare. Lei parlava di profilo sismico di una città, di un territorio. Profilo sismico e rischio sismico sono la stessa cosa? Ci aiuti a capire la differenza? Beh, il rischio sismico è un termine molto specialistico e preciso che utilizza i dati della sismologia storica, quindi la pericolosità con i valori di accelerazione del suolo, quindi di movimento e ricava degli indici. Questo moltiplicato, diciamo, per la vulnerabilità che oggi noi esponiamo che è più alta del passato perché intanto la scala demografica è più grande, siamo di più, abbiamo costruito di più e per quanto è esposto, quindi patrimonio industriale, patrimonio artistico e questo ci dice subito che il rischio sismico di oggi è molto più elevato che in passato, quindi è un valore che tende ad aumentare col valore, col numero della popolazione in aumento e col valore del patrimonio edilizio costruito e quindi il profilo invece sismico direi che è più legato, è un termine più generico, è più legato all'andamento del fenomeno, alla sua frequenza e alla sua tipologia. Quando noi diciamo pericolosità sismica di un territorio, che cosa intendiamo dire? Beh, dunque c'è un'accezione, diciamo così, immediata del buonsenso che vuol dire c'è un pericolo e quindi questo pericolo lo capisco da quello che è già successo, quindi questa è un'accezione così immediata e credo divulgabile. Quindi la storia dei terremoti però ci aiuta a capire quanto è pericoloso. Addirittura sì, la sismologia storica fornisce i dati di base anche per il calcolo della pericolosità che viene poi utilizzato assieme ai valori di accelerazione del suolo per gli ingegneri, quindi viene fuori alla fine un indice che è un numero che serve agli ingegneri per stabilire le nuove costruzioni come devono essere. Quindi la pericolosità in senso tecnico diventa, come anche le carte di pericolosità, sono degli strumenti tecnici per dei tecnici. Se io parlo invece di pericolosità in modo più generale intendo tutto quell'insieme di fenomeni non solo sismici anche legati ai caratteri naturali e antropici cioè abitati di un ambiente, di un territorio. Ecco, lei ci ha sottolineato una necessità di cui abbiamo parlato anche con altri esperti diciamo di questi fenomeni e cioè la necessità che i mondi che si occupano di eventi sismici comunichino fra loro perché questa comunicazione deve poi arrivare ai cittadini e naturalmente alle istituzioni che devono prendere, devono fare leggi, devono elaborare iniziative. Allora, mondo della scienza, mondo della ricerca a cui lei appartiene, mondo delle istituzioni e poi dopo c'è anche il mondo che adesso lei ha citato e cioè degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, delle società, imprese di costruzioni e mondo dei cittadini diciamo che devono essere consapevoli. Secondo lei, nel nostro paese, la mancanza di un modello di risposta adeguato di prevenzione dipende dalla, come dire, dalla cattiva volontà, dall'ignoranza, dalla mancanza di comunicazione. Quali sono gli elementi che bisogna, come dire, rimuovere perché ci sia una risposta di tipo preventivo agli eventi sismici? È una domanda molto complessa perché intanto, senz'altro, nel mondo scientifico fare un dialogo fra discipline diversi è difficile perché ogni disciplina ha la sua careggiata, diciamo così, ha la sua specializzazione che tende a isolare i problemi. Quindi i problemi sono sul territorio. Poi c'è il dialogo tra mondo della ricerca e istituzioni che già è un settore abbastanza critico perché è difficile trasferire le conoscenze che si hanno nel mondo della ricerca al mondo delle istituzioni che dovrebbe convogliarle in un qualche modo o assieme al mondo della ricerca o con iniziative autonome ai bisogni della popolazione perché la ricerca ha senso se ha una ricaduta sociale. Sono pochissime le ricerche disancorate da un'applicazione sociale. Quindi, ecco, avere questa visione sarebbe importantissimo e credo che su questo siamo piuttosto indietro. Hanno una funzione molto importante tutti i momenti di dialogo e di confronto fatti con spirito costruttivo. È una strada che non è facile da percorrere perché il nostro paese è anche pieno di veti incrociati di strade senza uscita. Insomma, è un mondo che va costruito con molto dinamismo e molto anche ottimismo. Potremmo cominciare in Emilia? Potremmo cominciare tant'è che io mi sono chiesta se l'Emilia può diventare un modello di ricostruzione. Questo io lo spero essendo emiliano lo spero vivamente anche perché c'è un'eredità culturale e diciamo proprio antropologica della gente dei caratteri culturali che farebbero sperare una cosa del genere. Sarebbe un segnale importantissimo credo a livello nazionale. Ce lo auguriamo che lei abbia e la sua fiducia si abbia riposta. Ci conto.